Si terrà oggi la conferenza stampa del San Carlo per la stagione 2011-2012, si prevede un programma fitto di idee e di novità. Qual è il carattere determinante di questa nuova stagione? Intanto l'aumento produttivo enorme, parliamo di 12 titoli d'opera per 12 mesi, una media di 5 spettacoli a settimana, 260 alzate di risipario e soprattutto un aumento anche qualitativo con grandi registi, grandi lettori d'orchestra e grandi solisti in stagione. Dal punto di vista finanziario invece oltre agli enti e ai soci ci saranno anche i privati, può spiegare un po' la situazione? Quando io sono arrivato come commissario del San Carlo nel luglio del 2007 solo il 5% del totale degli introiti del Teatro San Carlo erano da privati, adesso stiamo sferrando il 30%, se sommiamo a questo la circostanza che uno dei soci fondatori principali della regione Campania finanzierà con quasi 50 milioni di euro nei prossimi 5 anni del Teatro San Carlo, credo che uno dei più grandi obiettivi sia stato raggiunto. Per quanto riguarda invece la partecipazione del pubblico si sa, va bene, ci sono gli abbonati ma manca una grande fetta di pubblico giovanile, ci sono delle proposte? Beh, proposte ce ne sono tante, tenete presente che noi oltre ad avere un aumento del 30% degli abbonati e dei biglietti venduti anche fuori abbonamento abbiamo avuto un aumento di quasi il 40% del pubblico giovane, non è una grande cifra perché il pubblico giovane era poco e quindi il 40% comunque non è il massimo. Noi dobbiamo almeno raddoppiare nei prossimi due anni, cominciamo con Key Jarrett quest'estate che accompagna o comunque è accompagnato da un pubblico giovane, anche un pubblico stagionato ma soprattutto un pubblico giovane e continuiamo nei prossimi mesi. Noi dobbiamo arrivare al 100% in più di nuovi abbonati sotto i 35 anni nei prossimi due anni, ce la possiamo fare. Noi dobbiamo arrivare al 100% in più di nuovo.